Buonasera, benvenuti a tutti, sono Francesco Fasiolo di Repubblica TV, come vedete intorno a me ci sono tantissimi disegnatori, fumettisti, illustratori, un'altissima densità di artisti del fumetto e dell'illustrazione. Siamo qui per parlare dei tutorial della Scuola Romana dei Fumetti che troverete dal 5 maggio sulla pagina YouTube della Scuola Romana dei Fumetti e in questo caso proveremo a toglierci una serie di curiosità dal vivo, chiedendo un po' a tutti loro tante cose diverse da come si disegna Dylan Dog, a come si disegna una pin-up, a come si fa una copertina, a come si usa ad esempio un colore ad olio o un acrilico, insomma un assaggio di quello che potrete trovare su YouTube dal 5 maggio in poi. Prima di cominciare a dare la parola a loro però vorrei chiedere ad Alessandro Ruggeri della Scuola Romana dei Fumetti che si è occupato di questo progetto, come nasce questo progetto e perché la Scuola Romana dei Fumetti ha deciso di intervenire così pesantemente sul web per delle lezioni, sono lezioni a tutti gli effetti di fumetto e di disegno sul web gratuite per tutti. Ciao a tutti, l'idea era proprio quella di uscire dalle aule della scuola e di far vedere un po' quelle che sono le dritte, i consigli, le cose che gli aspiranti disegnatori vogliono sapere rispetto al lavoro dei professionisti. e quindi il videotutorial serve a questo, a dare dei suggerimenti pratici esattamente come le lezioni che poi si svolgono nella scuola, quindi questa era l'idea. In tutto questo nasce da questa esigenza, quella proprio di far vedere che cosa succede durante una lezione e anche sul tavolo da disegno, semplicemente questo. Questi video sono stati realizzati grazie a The Fine Art Collective Italy, un programma gratuito di workshop, quante ore avete girato e poi al montaggio c'è stato un duro lavoro, insomma quanto durano alla fine questi tutorial? Allora, ciascun tutorial ha una durata diversa, abbiamo girato tante ore, diciamo, e poi è anche duro selezionare molte immagini e molte sequenze, perché almeno per noi, insomma, ci piace vedere queste cose, sono tutte interessanti. Ma abbiamo cercato anche di fare un format godibile sul web e diciamo che si possa vedere sui vari social, quindi per YouTube ci saranno contenuti più, diciamo, lunghi, mentre su Facebook e su Instagram ci saranno delle versioni anche brevi o degli speed drawing o delle pillole tratte dai singoli tutorial. Quindi questa è l'idea. Bene, grazie, grazie Alessandro. Adesso cerchiamo appunto di affrontare qualche argomento che poi ritroverete nei tutorial. Accanto a me c'è Arianna Rea che è una disegnatrice Disney, ha lavorato a Monster Allergy, ha partecipato anche alla realizzazione della graphic novel di Inside Out della Pixar, che immagino tutti voi abbiate visto naturalmente. Nel suo tutorial Arianna ci parla del character design. Che cos'è il character design? Fondamentalmente è lo studio dei personaggi, no Arianna? Esatto. Che è fondamentale, perché si parte da lì, no? Per una buona storia. Assolutamente. Ci sono dei caratteri fondamentali, no? Il buono, il cattivo e la spalla. Cioè, questi tre ce li ritroviamo sempre, giusto? Si, si, si. Si parte da là. Assolutamente. Buonasera a tutti. Sì, io ho fatto dei tutorial sul character design, perché mi occupo proprio di character design, spesso e volentieri anche per Disney, e mi appassiona molto. La ricerca del personaggio parte proprio dall'identificazione in qualche modo. Siamo disegnatori, ma siamo anche attori. E quindi, conoscere il personaggio, prima sulle pagine scritte, e poi visualizzarlo nei momenti della sua vita, nel suo quotidiano, aiuta moltissimo a dargli una veste grafica, utilizzando ovviamente sempre gli stereotipi. Perché chiaramente bisogna far sì che il lettore capisca immediatamente che tipo di personaggio ha davanti. Se è un eroe o un antagonista, per esempio. Ecco, ci fai un esempio concreto proprio, ci citi un personaggio a cui hai lavorato in questo senso? Ho lavorato su diversi personaggi. Per Disney America, per una grande produzione, ho lavorato per le Star Darlings, che è un progetto che è stato lanciato abbastanza recentemente, diciamo. Ma anche su personaggi conosciuti dal grande pubblico delle bambine, che sono Violetta o Soy Luna, per esempio. E lì è stato molto interessante. Io parto spesso dal cattivo, dalla cattiva, perché l'antagonista ha delle caratteristiche molto... è più spigoloso di solito, quindi è più estremo, anche nella recitazione. Mentre lavorare sugli eroi, sulla figura del protagonista, è in qualche modo più complicato, perché nello stereotipo dell'eroe c'è un certo equilibrio, una certa moderazione, anche nella recitazione. Per cui bisogna essere sempre abbastanza misurati. Quindi sì, poi ovviamente si lavora, graficamente parlando, molto sulle silhouette, per esempio. E quindi, non so, figure circolari, il cerchio, dà un'idea di positività, di tenerezza. Figure spigolose, al contrario, appunto, possono spaventare. Quindi il cattivo avrà sempre delle punte nel suo costume o nelle sue fattezze, diciamo. Ecco, questo è già un primo trucchetto, insomma, che ci hai rivelato. Il rischio grosso, naturalmente, quando devi inventare un nuovo personaggio, o quando devi comunque lavorare un nuovo personaggio, è quello di cadere nello stereotipo, no? Cioè, lo stereotipo è utile, perché ce l'hai appena spiegato, è fondamentale. Però poi ne devi uscire in qualche modo. Quindi come si fa a uscirne? Si fa lavorando, in realtà, c'è un lungo lavoro sul character design. Il mio lavoro sulle Star Darlings, per esempio, è durato un anno e mezzo, perché comunque bisogna, appunto, usare lo stereotipo, ma essere in qualche modo anche originali e dare soprattutto un'anima al personaggio, quindi dare una personalità. E lo si fa immaginandolo, come dicevo prima, magari nel quotidiano, mentre fa qualcosa, mentre si lava i denti, mentre studia, mentre legge, ognuno ha il proprio modo, no? E quindi nel momento in cui lo conosci, puoi rappresentarlo al meglio. In Disney si dice che conosci un personaggio quando sai come reagirebbe se fosse chiuso in una scatola, in una stanza chiusa, no? E quindi sai che Paperino reagirebbe, magari, appunto, piangendo, oppure sì, dimenandosi. Topolino, invece, sarebbe più razionale. Quindi nel momento in cui lo conosci, sai cosa farebbe. Ecco, lì ce l'hai, lì il personaggio è il tuo e quindi anche una sua personalità. E con i personaggi di Inside Out come ti sei trovata? Benissimo, perché anche, beh, stilisticamente sono bellissimi, quindi io parlo anche dell'estetica, cioè hanno un sapore un po' vintage, un po' anni 70, no? E poi sono personaggi chiaramente molto comunicativi, perché le emozioni rappresentano le emozioni e chiaramente per un disegnatore c'è sempre una certa soddisfazione a far recitare molto un personaggio, cioè a fargli svolgere azioni un po' estreme, tipo appunto gioia, che è sempre molto sorriso, o tristezza, bellissima, sempre depressa, no? Questo modo è stato molto divertente. Poi lì c'è chiaramente anche tutto un uso particolare del colore, lì in quel caso è molto esplicito, no? Sì, sì, sì. Però comunque il colore è sempre utilizzato, poi torneremo su questo argomento per comunicare, no? In questo senso. Sì, è fondamentale, a parte il bianco e il nero, insomma, che possiamo immaginare, ovvio il rosso la rabbia, il viola in Inside Out era la paura, ma diciamo che rappresenta un po' in generale la magia o la regalità, ma i colori hanno un loro significato. Grazie, grazie Arianna. Ti vorrei direi di... Grazie. Facciamo, qua già si lamentano, dicono che non sentono niente da questo lato del palco, però insomma no, ha detto cose interessanti, anche se non avete sentito... Fidatemi. Allora parlerò lentamente. Passiamo a questo punto da Disney a Bonelli, facciamo questo salto, perché qui accanto a me c'è anche Maurizio Di Vincenzo, che ha disegnato naturalmente per tante testate, da Scorpio, Lancio Story, Intrepido, poi per Bonelli, non solo per Dilan Dog, ma anche per Damien, per Magico Vento. Parliamo però di Dilan Dog, parliamo però di Dilan Dog, Maurizio. Tu, allora, nel tuo tutorial ti occupi di un aspetto molto interessante, secondo me, che è quello dell'inchiostrazione e quello della copertina, di come si crea e si compone una copertina. Prima di andare su questi punti, però, due cose su Dilan Dog te le volevo chiedere. Allora, intanto, insomma, ti faccio una domanda da un milione di dollari, cioè qual è la difficoltà di disegnare un personaggio come Dilan Dog? Guarda, nello specifico per me Dilan Dog, invece, è proprio il personaggio ideale in Bonelli, cioè ha delle atmosfere, diciamo, una sorta di fragilità che in realtà, diciamo, nella quasi totalità della produzione bonelliana quasi non esiste, insomma. Per cui mi ci sono trovato subito benissimo. Non credo di avere difficoltà apparenti. All'inizio, chiaramente, ho dovuto, come dire, trovare la misura, però, diciamo, una volta superato l'impasso iniziale, diciamo, ce l'ho nelle mie corde, insomma. Questo è importante, no? Credo sia fondamentale per un disegnatore trovare questa sintonia con un personaggio. Esatto, e poi questa cosa l'ho verificata passando ad altri personaggi, non avendo lo stesso tipo di, come dire, di scioltezza, anche di partecipazione, anche emotiva, no? Diciamo, disegnando una storia. Tu sei anche fan, insomma, di Dylan Dog? Beh, sì, abbastanza. Non sono un lettore accanito, però sì. Ecco, allora ti chiedo, Dylan Dog sta vivendo, no, questo nuovo corso da un po' di tempo, che ad alcuni fan è piaciuto, ad alcuni no, ad alcuni in parte, come è normale quando ci sono delle novità importanti, no, in una testata. Volevo sapere tu cosa ne pensi, se ti trovi particolarmente bene nel disegno di qualche personaggio, magari un nuovo personaggio del nuovo corso di Dylan Dog, o di qualche atmosfera particolare. Ma, guarda, io ho disegnato delle storie dopo l'avvento, diciamo, di Roberto Recchioni, che è, insomma, il curatore, diciamo, del nuovo corso, però non ho fatto storie, diciamo, con nuovi personaggi. Posso dirti che, quindi, diciamo, per me è rimasta la stessa situazione di sempre, però ho visto qual è la direzione che Roberto sta cercando di dare un po' alla testata. Per cui, diciamo, credo che stia cercando di modernizzarla sia dal punto di vista visivo che dei ritmi narrativi. Sta cercando di, come dire, esprimere un linguaggio, diciamo, che sia più vicino ai ragazzi. Adesso non so se è per conquistare nuovi lettori o se è veramente, come dire, una sua intenzione, come dire, artistica, no? Tra virgolette. Però sta facendo, secondo me, molto, molto bene. Perché vedo, diciamo, dei ragazzi che probabilmente, come dire, non avevano le spalle così grosse all'inizio, che in realtà stanno apportando moltissimo alla serie. Dal mio punto di vista... Parli di disegnatori, sceneggiatori... Parlo soprattutto di disegnatori, perché gli sceneggiatori, diciamo, sono stati, diciamo, a parte qualche new entry, sono stati di recupero dopo che avevano, come dire, orbitato attraverso altre serie. Quindi erano stati, diciamo, un pochino, come dire, me ne andrò a dire allontanati, in realtà non sono stati allontanati. Cioè, si sono allontanati per un'esigenza, diciamo, editoriale e quindi hanno fatto altri personaggi e adesso, diciamo, con l'avvento di Roberto Recchioni sono ritornati in pianta stabile. Niente, quindi, diciamo che soprattutto, diciamo, dal punto di vista visivo. Io stesso, che sono un disegnatore molto, come dire, vecchia maniera, diciamo, non partecipo così tanto nella serie regolare, ma, come dire... Che intendi per vecchia maniera? Vecchia maniera che sono un disegnatore accademico. Cioè, mentre invece i ragazzi, quelli che, secondo me, diciamo, da cui ci si aspetta, diciamo, che inizino un nuovo corso e che possano, come dire, in qualche modo, diciamo, attrarre i nuovi lettori sono quelli che comunicano con le nuove generazioni attraverso un disegno che non è così solido dal punto di vista accademico, appunto, come dicevo, ma, diciamo, sono pregni di, come dire, indicazioni moderne che i ragazzi, come dire, capiscono. Adesso ho semplificato, ma in realtà è una cosa che succede da sempre e si chiama ricambio generazionale. Ok, la traduzione è questa, insomma. Però, insomma, funzionate entrambi via, non è una rottamazione, è un ricambio generazionale. No, no, assolutamente, altrimenti non sarete, diciamo, nello staff. Senti, dicevamo dell'inchiostrazione, che è un passaggio fondamentale che chiaramente gli appassionati di fumetti conoscono, però magari chi invece è un po' più distante da questo mondo tende a sottovalutare questo passaggio. Cioè, uno pensa ai testi, ai disegni, al colore, però l'inchiostrazione magari è un passaggio che viene sottovalutato e invece è fondamentale. E tu di questo ti occupi nel tuo tutorial. Ci vuoi dire un trucco per fare una buona inchiostrazione? Da dove si comincia, ad esempio? Intanto si comincia dalla consapevolezza di quello che stai facendo. Al di là della banalità, cioè, chiaramente, diciamo, una buona inchiostrazione è data dalla tua capacità di, diciamo, di disegno. Cioè, nel, oddio, nel metterti a disposizione del matitista, se il matitista è molto bravo, o nel sopperire alle mancanze del matitista, quindi aggiungendo atmosfere o cosa del genere. Adesso, chiaramente, il discorso è molto ampio e molto tecnico. Di fatto, l'inchiostrazione, diciamo, è il momento in cui ci si rilassa, in realtà. Quindi, diciamo, lo sforzo vero, quello creativo, avviene nella matita e spesso accade, per sintetizzare, come dire, un pensiero legato proprio all'inchiostrazione, spesso, se si fa tutto, diciamo, da soli, diciamo, se il momento in cui si disegna una matita molto accurata, l'inchiostrazione sarà superficiale, inesorabilmente, perché tutta l'energia creativa, in genere, si scarica in una delle due fasi. Quindi, per quello che mi riguarda, io faccio delle matite molto veloci per dedicarmi all'inchiostrazione con un pathos maggiore. insomma, questi aspetti. Grazie, grazie. Adesso mi hai fatto pensare, parlando di disegno, quando frequentavo anch'io tanti anni fa la Scuola Romana del Fumetto, una cosa, insomma, non essendo in grado, ho preso altre strade, però mi ricordo che una cosa che mi colpì, che ci dicevano che una delle cose più difficili da disegnare sono i cavalli. Cioè, il cavallo è proprio una cosa molto difficile da disegnare. Allora, Massimo Rotundo, che è qua con noi, naturalmente, insomma, non ha bisogno di grandi presentazioni, Massimo. Lui si occupa proprio di spiegarci nel suo tutorial come si disegna il cavallo. Allora, intanto, è vero che è così difficile, Massimo? Beh, in movimento sì, cioè, disegnare un cavallo seguendo la miologia muscolare, fare un bel disegno dal vero, eccetera, però muoverlo è difficile. Però ci sono dei trucchi per imparare. Ecco, quindi, almeno un trucco, diccelo. Copiare, all'inizio, magari dei disegni, copiare non significa ricalcare, guardare il metodo, il sistema di alcuni disegnatori. Per esempio, io mi piacevano molto i cavalli di Giro, Moebius, perché erano veramente cavalli indiani. E quindi si comincia a studiare alcune posizioni fondamentali del cavallo, che ovviamente non è che devi fare il dressage, un dressage filtrato dal disegno. Però, che ne so, il galoppo, oppure alcune posture. Poi ci sono i cavalli, c'è la sella americana, la sella inglese. La sella americana è proprio caratteristica, uno dei motivi per cui mi piaceva leggere Tex quando era proprio il fatto che disegnavano questi cowboy con la guida all'americana, che è molto diversa da quella inglese. E quindi, piano piano, poi ovviamente dipende anche dai gusti personali, cioè non è indispensabile dover disegnare dei cavalli nella vita. Cioè, dipende. Si agampa benissimo anche senza disegnare cavalli. Però, io ho scoperto che, non disegnando western, ne ho fatto uno sul Lancio Stori insieme a Saudelli, ormai 35 anni fa, e quindi, il primo Tex che ho disegnato, ho scoperto di essere un esperto di western. Cioè, proprio mi ero abbuffato di film western per tutta la vita. Per cui, questa posizione mi ricorda Jules Brinner, quando arriva al paese, e così via. Quello chiaramente aiuta, quel bagaglio lì, naturalmente. Senti... Mi succede anche con il fumetto erotico. Vabbè, lì non entriamo nei dettagli del bagaglio che hai sul fumetto erotico, insomma. Per dire? Immaginiamo, ti credo sulla parola, insomma. Ecco, dato che parliamo di western, poi torneremo pure magari a parlare di un fumetto erotico, però dato che parliamo di western, volevo coinvolgere un altro maestro, che è Eugenio Siccomoro, che è qua con noi. Allora, passiamogli magari il microfono. Senti, intanto, com'è lo stato di salute del western oggi? Parlo di fumetti, eh, non di cinema. Beh, bisognerebbe circoscrivere il discorso a un paese. Io lavoro prevalentemente per la Francia. In Francia il western è un genere che è andato, nel quale si è scritto molto e si è disegnato molto. Io credo che il western sia... A me piace molto il genere western e all'inizio della mia carriera ho disegnato per qualche anno che hanno esclusivamente storie western. Personalmente ritengo che il western sia un genere che ha dato moltissimo. Oggi per affrontare questo genere, a mio avviso, bisogna essere in grado di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che in qualche modo sia ancora capace di stupire che è un pubblico sicuramente disincantato, insomma, che ha frequentato il genere in lungo e in largo. Quindi o si riesce a dare qualche cosa di nuovo, se no è meglio scegliere altri generi, al mio avviso, insomma. Ecco, nel tuo tutorial ti occupi del colore ad acrilico, ci puoi dire che tipo di disegno, secondo te, è più adatto per questa tecnica? Dunque, io in realtà, prima di usare gli ink che sono degli acrilici liquidi, usavo un'altra tecnica, usavo degli acquerelli liquidi. Le due tecniche sono abbastanza similari, con la differenza che l'acrilico, come tutti gli acrilici, essendo una tecnica di derivazione plastica, in pratica l'acrilico è la stessa materia con la quale si verniciano le pareti, quindi la tinta lavabile è acrilico, ovviamente i prodotti per belle arti hanno una qualità diversa dai prodotti per l'edilizia. Dicevo, gli acrilici hanno la caratteristica che una volta asciugati non si liquefanno più, non tornano più a sciogliersi se vengono a contatto con l'acqua. Sicuramente è una tecnica molto interessante, fatta che si può affrontare sia in maniera più immediata, creando delle macchie, degli aloni, e sia per velature, creando, costruendo un tipo di pittura più classica, più tridimensionale. Stiamo vedendo un esempio, le immagini che vedete dietro di noi mentre parliamo, sono tratte dai vari tutorial seguiti dai diversi artisti che stanno parlando, in questo caso ecco Eugenio Sicomoro, il disegno sempre western, sempre li torniamo. Sono di una bravura impressionante. Colori ad acrilico, dicevamo, anche Simone Rea, Simone Rea usa i colori ad acrilico, gli tiriamo il microfono, però li usa per qualcosa di diverso, perché Simone Rea pubblica soprattutto illustrazioni, illustrazioni per fiabe, ha lavorato per varie case editrici italiane, a Rizzoli, topo e pittori, case editrici francesi. Oltre alla questione del tipo di colore ho una curiosità, nel senso che tu appunto, dovendo fare illustrazione, devi scegliere dei momenti particolari delle fiabe che meritano per qualche motivo di essere visualizzati in qualche modo nel libro. Ecco, come avviene questa scelta? Perché disegni, non so, quel topolino che abbiamo visto prima piuttosto che un'altra cosa? Beh, allora, solitamente, non essendo autore o prettamente autore, anche se uscirà un libro a breve scritto da me, mi propongono delle storie. Queste storie ovviamente mi trasmettono determinate sensazioni. In base a queste sensazioni, prima di tutto scelgo la tecnica, perché non mi piace lavorare sul lato acrilico, lavoro anche a Pastello, o ad Ecolin, o Ecoline, ancora non ho capito come si chiamano. Ma è quella, insomma. Quella. E quindi, principalmente, scelgo il colore da utilizzare in base alla storia, perché penso che la cosa più importante è mettersi a disposizione del testo. Nelle illustrazioni noi troviamo tanto testo e magari un'immagine che va a rappresentare il testo. Come facciamo? Io cerco sempre di trovare la parte più drammatica di quel momento, no? Di quel momento e cercare di racchiudere, o a volte togliere, a seconda del testo, e disegnare quindi in base al testo che mi propongono. Non è molto facile, bisognerebbe fare un esempio. Ci vuole un bel testo davanti a noi, per capire poi qual è la parte, magari, da illustrare. Però, magari, un testo molto didascalico, molto descrittivo, forse ha bisogno di immagini meno didascaliche, quindi con meno dettagli, meno particolari, meno, magari, più evocative. E sul tipo di colori c'è un confronto con gli autori dei testi? Cioè, anche quelli creano l'atmosfera, no? Dell'intero racconto. Sì, assolutamente, però non abbiamo mai un confronto diretto, cioè non dialoghiamo. Di solito c'è un tramite che è l'art director e non ci mette mai in contatto con... tra noi. Schioso. Che forse è meglio, è capitato una volta e forse è meglio così. Va bene, insomma, episodi violenti. Ma no, no. Però è un mondo molto autoriale, quindi le case editrici vogliono, cercano sempre delle novità e che siano il più originali possibili. Ok. Senti, voglio fare un triplo salto mortale e passare dalle fiabe per bambini alle pin-up, quindi se puoi passare il microfono a Fabio, on staff, redaelli. Ciao Fabio. Allora, Fabio, appunto, dicevamo, i suoi temi preferiti hanno a che fare con gli anni 50 un po', no? Le pin-up, il rock and roll, però è anche conosciuto probabilmente dai tifosi della Roma perché sul canale YouTube della Roma disegna una serie che si chiama Draw My Life sui calciatori giallorossi e sulle storie legate alla Roma. Però oggi volevo chiederti delle pin-up perché di questo parli nel tuo tutorial e intanto la definiamo questa figura, quando nasce e che caratteristiche ha? Non lo so, sul termine pin-up probabilmente ci si riferisce ai manifesti del dopoguerra americano, credo. erano nient'altro che delle forme pubblicitarie appunto per pubblicizzare dei prodotti quindi utilizzando la bellezza femminile. E sì, la parte più affascinante delle pin-up di allora erano questi manifestini disegnati da grandi artisti, da grandi pittori che poi con il passare del tempo da lì in poi sarebbero diventate fotografiche e quindi sarebbe cambiato un po' diciamo, ecco, la tecnica. La parte pittorica che è quella più che mi affascina di più era quella chiaramente dei grandi artisti americani da Jill Hill Green in poi, da George Pitti che riuscivano a stilizzare la forma femminile in maniera comunque seducente velatamente erotica perché poi anche lì l'America faceva i conti con il loro essere puritani con la legge McCartney e poi McCartney era un altro, è vero. Era Paul. Vabbè, insomma, non è che adesso riusciamo a distendere tutto la cronologia, diciamo, della pin-up però in realtà, ecco, non lo so quello che mi ha sempre affascinato è stata questa idea della bellezza che non sfociava mai nel volgare e quindi mi piaceva appunto riprodurre quel tipo di atteggiamento evitando chiaramente la parte commerciale eccetera, quindi focalizzando l'immagine della ragazza, della donna nella sua posa più seducente. Ecco, come le scegli le pose? Fai varie prove per capire se funzionano o non funzionano? Sì, faccio varie prove però purtroppo non faccio come gli artisti dell'epoca che avevano agio a delle modelle vere e proprie quindi non posso coinvolgere nemmeno appunto dentro casa e quindi a questo punto mi rifaccio a tutti i volumi illustrati dai grandi e chiaramente documentandomi come si diceva prima si copia nel senso che si guarda e si va avanti con una forma insomma. Possiamo ripassare il microfono da questo lato del semicerchio perché volevo coinvolgere anche Simone Gabrielli per parlare di un'altra tecnica come vedete lui si occupa dell'acquerello in questo caso Simone Gabrielli disegna per case editrici francesi come Glenat attualmente anche per Bonelli in che caso si utilizza l'acquerello? Cioè per cosa è più efficace questo tipo di tecnica? Allora, in realtà l'acquerello è efficace e opportuno utilizzarlo in tante occasioni diverse a seconda del modo che uno ha di esprimersi e l'esigenza dell'artista sicuramente è una tecnica molto affascinante proprio per una delle sue caratteristiche principali che è l'idrosolubilità cioè il colore si scioglie in continuazione perché è a base di gomma arabica e questo comporta delle difficoltà tecniche che possono essere gestite una volta che uno ha capito come assecondarle o contrastarle nel caso del tutorial io utilizzo la tecnica in una maniera quasi impropria e definirei più che impropria poco usuale perché generalmente viene utilizzato per rappresentare immagini dove la freschezza e l'immediatezza pensiamo a Pratt fa da padrone quindi immagini molto suggestive e molto impressioniste io lo utilizzo in un'altra maniera utilizzo avvelature strato su strato e vado a creare volumi molto tridimensionali quindi un linguaggio molto molto realistico e questo comporta una serie di problemi proprio per il fatto che dicevamo prima quando andiamo a scurire molto il colore abbiamo il problema che il colore sotto si scioglie quindi invece di scurire portiamo via il colore e quindi bisogna sopperire come viene spiegato poi nel tutorial con dei piccoli trucchetti diciamo armi del mestiere per poter andare avanti proseguiamo il giro con Mauro De Luca per chiudere questa nostra discussione parlando di un'altra tecnica Mauro De Luca è un illustratore per varie case editrici di Agostini, Panini, Mondadori diversi giornali Repubblica, Manifesto, Messaggero ora al lavoro anche lui per Bonelli nel tutorial ci parli del colore a olio il colore a olio ci fa pensare a diciamo grandi predecessori anche del linguaggio fumetto cioè anche che non hanno a che fare col fumetto cioè addirittura a Caravaggio ci fa pensare il colore a olio ora è assurdo fare diciamo dei confronti dal punto di vista della tecnica cioè la tecnica a olio che usava Caravaggio è confrontabile con qualcosa che fate voi oggi? assolutamente sì diciamo che io tradisco le mie origini che sono assolutamente pittoriche e quindi ho studiato proprio pittura all'accademia e poi l'incrocio con il fumetto è stato casuale cosa che comunque mi ha appassionato e mi ha fatto scoprire un mondo quindi ho unito questi due mondi apparentemente distanti e l'attualità di Caravaggio non la scopro io perché ci sono ancora registi, fotografi, disegnatori che cercano di carpire i suoi segreti le sue atmosfere e c'era un grande artista che era se non sbaglio Egon Schill che diceva che l'arte non deve essere moderna ma deve essere eterna quindi sono i grandi che ci insegnano e quindi non sono sempre validi e ritornando alla alla tecnica ad olio è stato un passaggio cruciale quello di Caravaggio perché lui ha iniziato la modalità quella che si chiamava alla maniera scura vale a dire partendo da un fondo scuro cosa che era impensabile con le altre tecniche come la tempera la fresco l'acquerello perché erano tutti tecniche che lavoravano sulla trasparenza mentre l'alto grado di copertura che ha l'olio permette di lavorare quasi scolpendo dall'oscurità e quindi io amo anche come sono l'unico ci sono stati straordinari illustratori come anche Rockwell che ha lavorato ad olio che ha usato questa tecnica sempre partendo non dal bianco ma da un fondo ecco pensando anche a Norman Rockwell però non necessariamente l'olio vuol dire iperrealismo no? assolutamente no penso anche a GP in esterno notte che ha sperimentato no? quindi nel campo del fumetto ha vari utilizzi no? assolutamente sì perché l'olio è la tecnica che permette tutto perché uno può ripensarci mentre l'acquerello è molto rigoroso perché bisognerebbe sfruttare la luminosità della carta mentre l'olio ci permette di tornare avanti dall'oltranza quindi di avere ripensamenti e realizzare anche una pittura materica che abbia dei contrasti anche di superficie ha dei tempi più lunghi però più lunghi però è relativamente più facile proprio perché ci perdona di più ecco ci perdona di più ecco queste insomma abbiamo dato un'idea di quello che potrete trovare su questi tutorial io però prima di ringraziare tutti i nostri ospiti voglio chiedere a qualcuno di voi dato che ci sono qua che ci guardano anche tanti ragazzi che magari vogliono iniziare questa carriera ecco magari lo chiedo proprio a Rotundo di dare un consiglio al di là di andare a una scuola o comunque vedere i tutorial che consiglio possiamo dare a chi vuole iniziare oggi la carriera del fumettista allora ovviamente se uno inizia una scuola professionale o artistica con l'idea di diventare un grande disegnatore un grande pittore eccetera eccetera forse non è l'atteggiamento giusto bisogna farlo per passione per amore perché ti piace e poi per scoprire rubando cioè l'allievo deve essere una spugna che assorbe e qui abbiamo un consenso di colleghi artisti e anche amici che fanno parte appunto della scuola di fumetti e questa caratteristica che ognuno viene da un campo diverso conosce tecniche diverse si va dall'antico al moderno questo serve all'allievo cioè avere una preparazione culturale perché non si ne disegna ne dipinge soltanto con le mani ma anche con la testa con la conoscenza e poi metterle a frutto in qualsiasi maniera cioè il consiglio che do io è quello di lavorare 5 ore al giorno a casa cercando di studiare i maestri cercando anche di sperimentare cioè una cosa per esempio che vedo che manca ai nostri ragazzi qualche volta è questa esigenza di fare un po' l'alchimista a casa di trovare forme diverse di mettersi in discussione secondo me il campo dell'immagine è intrigante per questo motivo perché si possono trovare anche se noi vediamo questi tutorial non c'è sì c'è anche un po' d'accademia ma c'è anche molta personalità molto stile personale molta cifra stilistica quindi vuol dire che l'autore ha ricercato tramite i materiali adesso ci sono dei materiali fantastici ha cercato una sua strada una sua possibilità e comunque il disegno rimane un qualcosa di prezioso da portarsi avanti un po' come la musica eccetera eccetera quindi è questo il mio consiglio farlo con passione in effetti è interessante notare come hai detto giustamente tu l'applauso è giustissimo dove stanno gli aerosci cioè che venite tutti poi da strade diverse da usate tecniche diverse avete una preparazione diversa ma questo non è non è casuale la scuola ha cercato proprio persone artisti insegnanti che potessero portare la loro esperienza e confluire nella scuola con un bagaglio a 360 gradi perché non basta più insegnare come si si squadra la vignetta come la postura come si fa una correzione ormai con internet bisogna essere preparati a 360 gradi ok è anche una sfida interessante questa assolutamente sì grazie chiudiamo con questi preziosi consigli da parte dei nostri autori grazie a tutti voi e grazie naturalmente anche a tutti voi che ci avete risposto e ci avete tolto qualche curiosità buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti